Raccogli la base ed il pubblico corre con te, non sei solo nel grande diamante, corre il cuore, la gente e lo sport. Amici di Rete55, una buona sera, torniamo a parlare di softball, torniamo in compagnia della Reavendros Caron, ovviamente del nostro Giorgio Turconi. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti i telespettatori di Rete55 ed eccoci anche in trasmissione questa settimana per parlare di questo campionato che è giunto a concludere il giorno d'andata. Prima fase conclusa, ma partitona perché si è giocato lo scorso weekend. Si è giocato e quindi cominciamo a guardare i risultati. Nel girone A, trasferta in Sardegna per Reavendros Caron, che conquista due vittorie un po' più faticose alla prima, ma molto importanti per la classifica. Saronno vince con Parma e in gara 2 ha faticato un pelino, mentre nel derby bollatese la squadra di Bollate prevale abbastanza facilmente su New Bollate, che ripetiamo è una squadra molto giovane, una squadra quasi completamente under 18 e quindi ci può stare. Nel girone B è un pareggio tra Forlì e Caserta, un pareggio anche tra Sestese e Castelfranco, mentre Pianoro riesce a vincere, seppur con il minimo scarto in gara 2, la partita, il derby emiliano con Collecchio. Se diamo un'occhiata adesso alle classifiche, vediamo nel girone A, stabilmente in testa Saronno, che sta dominando questo girone, poi Bollate al secondo posto e subito dietro Reavendros Caron, che sappiamo però dovrà guardarsi molto bene da Parma nella seconda parte del campionato, della regola season, perché Parma è squadra tenibile. Nel girone B Castelfranco, anche qui stabilmente in testa, ha due partite in più perché ha già anticipato una delle partite di agosto, poi Pianoro e Forlì che stenta un pochettino, ma credo che saranno poi queste le squadre che accederanno alle fasi finali. Ecco, due partite che vi aspettavate un po' di mettere a gettone, ma non è stata proprio così semplice, soprattutto la prima. Diciamo, l'obiettivo era quello chiaramente della doppia vittoria, ma in gara 1 c'è il primo lancio e Giurubi Alicardt subito un fuoricampo. Per mettere in chiaro subito le cose. Sì, per mettere in chiaro, perché poi saranno tre i suoi fuoricampi a Nuro al fine della giornata. Il campo di Nuro è un po' corto e poi è un po' particolare come campo, ma si sapeva che non sarebbe bastato quel punto e così è stato, con la necessità di alternare tutte e tre le lanciatrici italiane con la chiusura, si chiama salvezza nel gergo del softball di Silvia Durò, ma anche Bianca Messina ha dato una mano a Carlotta Salis a completare un inning un po' critico e la doppia vittoria era proprio l'obiettivo che ci si prefiggeva. Tra l'altro ci hai portato Giurubi nella sua peggior partita, oggi che ha fatto una partitona, niente. Giurubi ha fatto più di una partitona perché dobbiamo ricordare anche le cose ottime che ha fatto, tranne quell'errore che le è capitato. Più unico che è raro praticamente. Insomma, se Baggio sbaglia il rigore non è che Baggio non sa giocare. Salutiamo Giurubi, salutiamo grandissima. Tre fuoricampi suoi e anche uno di Chiara Ambrosi a Nuro, e quindi doppia vittoria importante che ci fa chiudere il girone d'andata con una partita di vantaggio su Parma. E allora ascoltiamo però le voci del campo, tra cui proprio Giurubi e ovviamente Argenis Blanco. Siamo qui con Giurubi Alicarte, sicuramente l'MVP di questo doppio incontro con Nuoro. Giurubi, io sai quanta è la mia stima nei tuoi confronti, ma spiegaci qual è il tuo segreto, perché due fuoricampi, di cui uno un grande slam, rubate, giocate difensive. Qual è il tuo segreto? Non è un segreto, giro la mazza, guardo la palla e giro. Mi ho allenato bene per questa settimana e mi sento bene nel home play, girando bene e ho fatto il fuoricampo che cercavo tutta la squadra. Con queste partite, con questi risultati sul campo, dove può arrivare questa area? Lontano, lontano. Penso che noi adesso stiamo giocando bene, buona defensa. La prima partita in battuta non era tanto bene, ma torniamo con la cubana che era in pedana, lanciava forte e abbiamo fatto il lavoro che cercavamo. Penso che vamo a play-off, se giocamo così andiamo lontano. Perfetto, grazie mille Giurubi. Molto, sei veramente brava, i tuoi allenatori ti insegnano bene l'italiano. Tu, la rookie, tutta la ragazza, imparo sempre qualcosa. Facciamo un saluto a tutti, a Giorgio che non è qui per farci le interviste, a tutta la società, i volontari che ci danno sempre una male. Anche le sue, le mamme, i papà, fratello, sorello, i poteri in Cile. A tutti i nostri tifosi, ai nostri ultras, ai volontari e a tutti quei ragazzi che lavorano nel bar e basta. Come sono andate queste due partite? Due partite sicuramente diverse. Certo Eli, grazie Eli. Niente, due partite difficili, sempre le trasferte sono difficili per tutto lo che rappresenta, alzarsi presto, l'aereo, stare tutto il giorno fuori, sai, per il lanciatore dopo un campo diverso. Comunque abbiamo gestito la partita bene, i lanciatori sono andati bene, un po' complicata la prima, però comunque con molta fiducia abbiamo fatto un paio di errori, però alla fine la fiducia nel lanciatore specialmente durò, un po' Sally che non era tanto in forma, però dopo anche Bianca, chiuso durò, buono. Seconda partita sembrava la più difficile, al contrario, abbiamo sbloccato nel primo inning, grazie a Sheldon, e niente, una Juruwi grandissima contro il fuoricampo, una Sheldon grandissima con 3 su 3 contro la Cubana che tirava forte. Abbiamo fatto un bel weekend, adesso siamo contenti, fiduciosi. Proprio in vista del campionato, quanto saranno importanti le partite di sabato contro Bollate? Sì, penso che dopo abbiamo iniziato col piedi destro, a Bollate, la prima del campionato, adesso giochiamo in casa nostra, i nostri lanciatori sono in forma, siamo in forma mentalmente, fisicamente, è un punto inizio, aspettiamo una guerra sabato. E dunque, queste le interviste da Nuoro, ma insomma, caro Giorgio, andare in Sardegna a giocare è sempre un momento divertente, oltre che faticoso e con la testa alla partita. Com'è data questa trasferta? Noi solitamente si organizzava delle trasferte abbastanza faticose, perché si parte sabato mattina, si arriva a Olbia, Pullman, un'ottantina di chilometri per arrivare a Nuoro, si va in albergo, ci si rinfresca, le partite, poi si esce, si finisce sempre dopo le 10, si mangia qualcosa e il giorno dopo si ritorna. Questa volta, seguendo i suggerimenti degli amici di Bollate, abbiamo fatto un'organizzazione in maniera un po' diversa e poi c'è anche qualche immagine che potrà andare in onda. E quindi, anziché pernottare a Nuoro, abbiamo pernottato, hanno pernottato, perché io non sono andato con loro, in un resort sul mare e si sono fatte una meravigliosa giornata di mare, mare sardo, la domenica, prima di rientrare e quindi direi che sono tornate tutte molto molto contente. Quanta invidia, devo dire, perché insomma, soprattutto poi potersi rilassare dopo due partite comunque finite bene, direi che meglio di così non poteva andare. E di fatti qualche dirigente mi ha detto, scusa perché non siamo andati anche noi? Infatti, Giorgio, la prossima volta, andiamo tutti, andiamo tutti, così non ci pensiamo più. Senti Giorgio, buttiamoci un po' sulle statistiche, perché insomma si è chiusa questa prima parte di stagione, quindi andiamo un po' a vedere un po' di numeri per capire un po' l'andamento e per capire un po' meglio dove andrà questo campionato. Vediamo qualche numero, il numero da cui voglio partire è quello del lancio. Per, diciamo, gli spettatori che non sono così avvezzi ai numeri del sobo, ricordiamo che c'è un parametro che si chiama punti guadagnati sul lanciatore, lanciatore anche se è una lanciatrice, ma così si dice, e che rappresenta il numero di punti che, diciamo, in media, in una partita, vengono fatti dagli avversari senza che la difesa abbia possibilità di intervenire. Ed è quindi un parametro importante. Se guardiamo, le prime dodici atlete di questa classifica racchiude tutte le quattro lanciatrici del Caronno. Quindi sicuramente la pedale di lancio è in questo momento un punto di forza della Rea. Abbiamo Gillian Tornes, seconda in questa classifica, dopo Greta Cecchetti che ha 0 punti guadagnati, ma Gillian Tornes ha una media di 0,2, vuol dire che su di lei guadagnano in un punto ogni cinque partite e quindi questo la dice lunga. E poi abbiamo Carlotta Salis molto molto bene a 0,43, Silvio Durò 0,68 e Bianca Messina 1,62, leggermente davanti a Veronica Comara che è la lanciatrice di punta del Saronno che sta dominando il girone. Quindi pedale di lancio molto importante per la Rea con tre lanciatrici italiane di assoluto valore. L'altra classifica a cui vogliamo dare un'occhiata è quella della battuta. Caronno non è mai stata una squadra che si è distinta particolarmente in battuta e anche quest'anno conferma di essere più forti in difesa che in battuta. Abbiamo una media squadra di 226 che diciamo era una sufficienza molto molto stiracchiata con però qualche eccellenza perché giurubi Alicart di cui abbiamo parlato prima ha una media di 516 vuol dire che batte una battuta valida più di una volta ogni due. Sono medie queste strepitose che se guardiamo le statistiche di tutto il campionato la mettono al secondo posto assoluto nel panorama. Al terzo posto abbiamo Andrea Filler atleta del Saronno con un 640 che non è neanche commentabile da tanto importante e poi Stefani Texera che è qualche punto davanti a giurubi. Poi le altre diciamo sono diciamo in una media caronnese consideriamo tuttavia che abbiamo tre atlete di cui l'importante è Melanie Sheldon di quelle che è andata più volte a battere con un 333 che è comunque un'ottima media. Chiarambrosi 241, le altre più sotto. Non siamo una squadra di forti battitori e questo è un punto su cui si sta insistendo molto in allenamento ma non è neanche facile. Certo era importante confermare però il lancio perché è stato forse quello la base per fare il grande campionato che è stato quello dell'anno scorso. Sì il lancio è importantissimo e pur visto anche come sta andando il campionato dove evidentemente il campionato italiano forza tanto da quel punto di visto. Allora questo è uno sport in cui la chiave di tutto è la lanciatrice. Se tu non hai una lanciatrice, ma anche nei giovanili è così, se non hai una lanciatrice all'altezza tu non riesci a giocare la partita. La pedana italiana della Rea quest'anno è veramente all'altezza e i risultati si stanno vedendo. Si stanno impegnando molto e c'è un ottimo spirito di squadra e quindi anche le lanciatrici che a volte vengono impegnate di meno hanno compreso come è importante che ognuno dia il proprio contributo e lunedì pur essendo una giornata che era di semi riposo dopo la trasferta, le lanciatrice erano sul campo ad allenarsi e io proprio ho parlato loro raccontando un po' metaforicamente che bisogna apprezzare moltissimo chi dà anche il piccolo contributo perché se guardiamo nel corpo umano la tiroide pesa un grammo e mezzo e allora facciamone a meno ma non si vive senza la tiroide, l'ipofisi eccetera e quindi per la salute della squadra è veramente importante che ognuno si senta parte e dia il suo contributo a volte può essere piccolo ma determinante. Siamo entrati in anatomia qui intanto. Caro Giorgio si gioca ancora però il prossimo weekend prima o poi della pausa lunga? Sì prossimo weekend si gioca e quindi nel giro ne ha ci sarà un Parma New Bollate, un Sarò non Euro ma soprattutto al Francesco Nespoli ci sarà un Reavendo Scaronno Bollate che è uno dei famosi derby della Varesina, i due campi distano pochi chilometri sempre sulla ex statale 233 e nel girone B c'è un Caserta Collecchio, Forlì Sestese e Pianoro Castelfranco che si annuncia uno scontro importante per vedere un po' le posizioni di vertice del girone B. Ah sarà molto interessante. Di mezzo ovviamente gli impegni della nazionale verso poi il proseguo della stagione e diciamo c'è un po' il sogno che qualcuno venga convocato alle Olimpiadi. Dunque questo lo sappiamo a fine mese e dopo il raduno che precederà l'europeo verranno diramate le convocazioni, noi abbiamo Melanie Sheldon nel gruppo della nazionale, pensiamo che meriti una convocazione nazionale per il rendimento difensivo spettacolare in questa stagione, veramente dà una garanzia in difesa che non vediamo altre atlete italiane in questo momento allo stesso livello. Soffre la concorrenza di chi batte un po' più di lei ma noi riteniamo che meriti la convocazione e una convocazione vorrebbe dire una partecipazione alle Olimpiadi che è il sogno, il sogno di ogni atleta di qualsiasi sport. Decisamente, se va alle Olimpiadi poi ci colleghiamo con lei direttamente da Tokyo, ci alziamo presto noi, ci colleghiamo allo stesso. Poco ma sicuro. Cara Piera dalla regia, stai lì che di notte veniamo qua e facciamo il collegamento. Bene, grazie Giorgio, noi ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima e commenteremo la giornata prima della sosta e magari faremo qualcosa anche in occasione dei campionati. Oh che bello, allora saremo sempre qua il mercoledì alle 21 ovviamente in Rete 55, grazie Giorgio. Buonasera a tutti e arrivederci alla prossima. E naturalmente, cosa manca? Forza Rea, ciao! Grazie a tutti!